Croazia sta cercando di rilanciare insieme a molti partneri, amici croati, uno straordinario rapporto storico di amici e vicinanza di solidarietà tra l'Italia e la Croazia. Una parte fondamentale di questo rilancio è quella di economica, di commerciale. L'Italia è il secondo partner potenziale per la Croazia, come molti sanno, ma il potenziale c'è tutto. Tra le abitudini costruiti alimentari italiani e croati condividiamo una larghissima parte delle nostre abitudini culinarie nel nome della dieta mediterranea. Costruiamo insieme l'arte dell'olio e del vino che sono componenti essenziali della nostra comune appartenenza mediterranea. Questo significa che il potenziale c'è e che l'interesse a conoscere e a praticare sempre di più il cibo, il buon cibo, l'olio, il vino, i prodotti alimentari, siano messi della pesca, siano messi dell'olio frutta, siano messi delle carni che restano molto alla Croazia e alla solidaria. La dimensione del vino è negli alberghi, negli ristoranti, in generale alle persone che amano la cultura del vino, sempre più possibilità di scelta. E nei menu provati, nelle enoteche, nei supermercati c'è sicuramente spazio per una crescita di presenza del vino italiano che come tutti sapete è il vino più esportato nel mondo.